In un regno non morto, vivono degli eroi, si chiamano Franco e Francesco, che insieme i loro amici fanno avventure, di divertire con gli universi, versi, di divertire con gli universi, versi, la 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 la, e qua c'è stato tradito Mauro e Padri cattivi, e Moci e lui insieme ai suoi amici cattivi, ora Paolo è nervoso e quindi vuole che facciamo arrivare dei cuocci dei buoni, gli universi, parteciperanno anche i cartoni animali, gli universi, creato da Franco e Francesco. Grazie 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 Grazie